questo qua è un trail che come vedete parte da montacuarone un'altezza di circa 733 metri e se ci può arrivare diciamo da diversi posti si può salire su da bestagno i laviani si può salire su da vase o si può addirittura salire su dall'ucinasco è un pochettino lunga ma molto molto bella e panoramica ovviamente dall'ucinasco si arriva direttamente su dalla chiesetta che poi ci porta poi su al montacuarone ovviamente la discesa è molto tecnica e poi si incomincia poi il trail che parte dal video di vasia il trail molto bello come vedrete poi dalle immagini e segue tutta la cresta che passa fra imperia e porta maurizio la valle del primo quindi avremo valle impero e valle del primo ci passiamo proprio in mezzo e arriva proprio giù all'ospedale ovviamente devo ringraziare i tre amici tra cui lorenzo detto il magnifico franco che è una lepre che scappa sempre e il nostro amico luigi che ovviamente le corre ha proprio il suo compleanno per a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti